Il cadavere di Marilena Re, la promoter scomparsa lo scorso 30 luglio a Castellanza, è stato ritrovato stamattina in un orto in uso a Vito Clericò, suo ex vicino di casa, nella zona boschiva accanto alla stazione Serenella di Garbagnate Milanese, sul posto Iris per i rilievi del caso. Da ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Varese stavano passando al setaccio l'area dove è stato scoperto il corpo, ma le operazioni si sono rivelate più difficili del previsto a causa della fitta vegetazione e delle sterpaglie. Si tratta di un terreno in uso a Clericò da decenni, dove trascorreva molte ore. L'area è stata sequestrata dai carabinieri su decisione della procura di Busto Arsizio. Secondo le accuse, la donna sarebbe stata assassinata da Clericò, il suo amico di 64 anni, che era stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere per 90.000 euro. Dalle indagini, come ha spiegato il procuratore, è emerso che Marilena Re, nel 2014, aveva affidato in custodia all'indagato e alla moglie 90.000 euro in contanti. La donna, infatti, aveva un debito con l'Agenzia delle Entrate, a cui doveva versare circa 80.000 euro entro lunedì 31 luglio, giorno successivo alla sua scomparsa. Marilena, però, era venuta a sapere che l'uomo non era più in possesso del suo denaro, poiché lo aveva utilizzato nel frattempo per alcune spese, quindi non avrebbe più potuto restituirglielo. Così, lo stesso clericò ha riferito che il 30 luglio, su richiesta di Marilena stessa, tramite una telefonata, sarebbe andato a prenderla a casa Castellanza per poi accompagnarla in piazza Garbagnate Milanese, luogo da cui la donna si sarebbe allontanata a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Questa versione, però, è stata smentita sia dalle indagini dei carabinieri, che hanno accertato che non c'era stata alcuna telefonata della donna, sia dalle telecamere della piazza.